Sebastiano, Chittolini, il tuo regno, la sala pesi del Palabarton, il nuovo preparatore atletico della Seer Safety Con a Perugia. La prima domanda è d'obbligo, come va la preparazione sotto l'aspetto fisico dei ragazzi che sono qui a Perugia? Allora, abbiamo iniziato da due settimane, siamo entrati nella terza e per il momento sta andando bene. Chiaramente stiamo cercando di portare i ragazzi a una condizione fisica di base che sia buona, stiamo cercando di mettere fondamenta per la stagione. Non abbiamo avuto grossi problemi, un po' di affaticamento generale, però niente di che, perché il problema grosso sarebbe se poi qualcuno ha dei problemi e si deve fermare. Quindi per il momento sta andando bene, siamo in pochi, questo diciamo che lo vedo come un vantaggio dal momento in cui posso conoscere i giocatori e programmare la loro seduta a pesi in maniera più personalizzata. Poi quando arriveranno tutti sarà più problematico. Oh ecco, l'altro giorno chiedevo a Nicola come avrebbe gestito l'arrivo dei giocatori che mano a mano si aggregano al gruppo sotto l'aspetto tecnico. La stessa domanda la faccio a te, chiaramente sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto atletico. Come verranno gestiti atleti, giocatori che hanno fatto magari una o due preparazioni già durante l'estate per farli rendere al massimo all'inizio della stagione? Diciamo che sicuramente questa fase che stiamo facendo adesso sarà impossibile da realizzare e quindi dovremo sperare che arrivino in una buona condizione fisica già di loro, soprattutto senza problemi fisici sarebbe auspicabile e poi quando arriveranno cercheremo di capire le loro caratteristiche principali e cercheremo di lavorare senza però fare un periodo di carico, quindi senza fare un ricondizionamento. Cercheremo di fare un mantenimento e di cercare di metterle in campo il più presto possibile e nelle migliori condizioni possibili. Un altro paio di cose, un'altra sempre sotto l'aspetto atletico, una stagione così lunga, piena di così tante partite, ci saranno periodi dell'anno dove praticamente si giocherà quasi e basta. Come si gestisce sotto l'aspetto atletico, Seba? Allora diciamo che tendenzialmente il grosso del lavoro si fa adesso e poi cercheremo di sfruttare magari le settimane, quelle un po' più lunghe, se avessimo delle settimane tipo magari possiamo caricare un po' di più, però sarà una cosa che scopriremo diciamo in itinere, quindi per esempio la terza giornata che riposiamo magari sarà un buon momento per poter fare un micro carico con i giocatori che sono arrivati dalle nazionali. Abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi giocatori, dei grandissimi talenti, anche dei grandissimi talenti fisici, quindi il compito sarà facilitato. Allora un'ultima cosa, questa è più personale, intanto come procede l'ambientamento qui in Umbria, vedo che hai approfittato dei giorni libri per già visitare un po' delle bellezze Umbra, in generale dopo tanti anni di lavoro all'estero penso sia bello tornare a lavorare in Italia. Diciamo che è una domanda che mi fa piacere, ti dico la verità, la prima due settimane mi alzavo allo specchio e mi guardavo e mi dicevo dove sono, cosa ci faccio qua? Però poi ora me ne sto rendendo conto e devo dire che è una cosa meravigliosa, soprattutto il calore umano di tutte le persone che abbiamo intorno, qualsiasi cosa, dalla cassiera del supermercato al cameriere del ristorante, è una cosa meravigliosa che mi mancava veramente tanto e quindi sono molto contento della scelta che ho fatto. Vi ringrazio molto tutti, anche per come vi state comportando, per com'è l'ambiente, è una cosa meravigliosa.